è venuto a prendermi lei e stiamo andando in centramilano anzi siamo già in centramilano per andare ad un evento tra poco arriviamo forse e 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